Musica Ben ritrovati con il notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine d'oliva del 25 marzo. Ancora leggeri aumenti dell'olio extravergine d'oliva, contrattazioni limitate alle normali forniture. Non si hanno notizie di accapparramenti. L'olio a scaffale è comunque aumentato di prezzo, dovuto ai costi delle bottiglie, tappi, etichette, trasporti e servizi. Diamo uno sguardo ora alle principali piazze italiane. Le quotazioni più alte si sono avute a Verona. Come vediamo, minimo 4,25, massimo 4,90. Chieti e Pescara, minimo 5, massimo 5,50. Roma, minimo 4,40, massimo 4,60. Palermo, minimo 5, massimo 5,20. Per Genova, Imperia e Firenze, minimo 4, massimo 4,50. Per quanto riguarda il prodotto certificato biologico Unione Europea, minimo 4,50, massimo 4,70. Per il biologico italiano, minimo 4,70, massimo 4,90. Passiamo ora ai mercati esteri. Le quotazioni più alte si hanno in Grecia. A Creta, valori minimi 3,45, massimo 3,55. Mentre per il mercato Extra Way, in Marocco, a Meknes, valori minimi 3,30, massimo 3,50. Una nota riferita agli aumenti avuti per gli oli di semi rispetto a quelli di oliva. I primi hanno un notevole utilizzo nell'industria agroalimentare e nelle preparazioni gastronomiche non artigianali. I secondi, invece, hanno minori usi nell'industria, ma tendono a essere richiesti da fasci di consumatori che si portano negli utilizzi familiari l'olio di oliva o di sansa, prodotti certamente di minore qualità rispetto l'extravergine di oliva, ma che comunque hanno simili capacità energetiche e digeribilità. Grazie per l'attenzione e un arrivederci alla prossima settimana. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.